ho appena scoperto che è uscita una versione più recente e più aggiornata che risale all'8 di marzo appunto per la festa delle donne e quale cosa migliore per la festa delle donne che festeggiare aggiungendo nient'altro che yandere kun ovvero un uomo guardate com'è bella la mia yandere chan guardate che bel faccettino simpatico ciao io sono yandere kun mi piace tanto il mio senpai kun mi piace così tanto che mi metto anche il suo pupazzetto sulla spalla l'ho cucito io usando i suoi denti del giudizio al posto dei bottoni allora la prima cosa da fare come tutti ben sapete è andare sul tetto e buttare di sotto cocona vai 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 tu guarda qui ci doveva essere cocona invece c'è macchie di sangue chissà perché e senpai pensa comunque che sia una donna bravo senpai perché una divisa diversa tutti gli altri ragazzi scusate mi sono tolta la camicia perché invece va caldo evidentemente sì c'è sempre quella tizia che la sua apposta per farci fare gli esperimenti a me quindi che bello che bello c'è anche l'animazione in cui lui dismembra la gente se ne deve essere accorto qualcuno che sta smembrando la gente sul tetto e mi stanno pure a guardare cioè quella la mi sta pure a guardare invece di chiamare la polizia e allora tocca pure a te scusa cioè mi no no nel muro to guarda un'altra tipa che non si accorge che la gente viene smembrata che cavolo che cavolo di animazioni sarebbero queste proprio tranquillo questo qui è ancora più yandere dell'altra cioè è proprio assettico senza emozioni mantiene la stessa faccia di bronzo qualunque cosa faccia fantastico no non provare a scappare non osa non osa guarda lì con tutto il sangue che gli scuole lungo le braccia è bellissima sta cosa un po' troppo sangue precisamente gli scuole lungo le braccia è ancora leggermente bagatino ma direi che ha fatto un ottimo lavoro effettivamente potrebbe somigliare un po' agli andrecciani un po' gli somiglia secondo me nooo se ride ride così non mi sembrare stata molto maschile non so a voi ma evidentemente ognuno ha detto ride come vuole se non sbaglio hanno implementato una nuova faccia per gli andrecciani che non so mettere naturalmente eccola una nuova faccia per gli andrecciani che ha gli occhi leggermente più piccoli e più simili a quelli di andrecciani fatemi sapere se preferite questa versione oppure quella originale sono così come maschio? ah cioè si vede il si vede lo schema della femmina sotto come potete vedere si può ancora vedere che potrebbe diventare femmina in teoria ma in realtà sono un maschio capisco e beh era prevedibile che fosse strabuggato però il fuoco funziona lo stesso quindi oh avete paura mi dispiace a questo punto bisogna andare anche sul tetto non è che posso fare le cose a metà anche voi ma si bruciate tutte 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 dovete bruciare tutte posso mettergli anche i capelli no aspetta un po' ma è lui tornato femmina? che bello non è che li donino molto per i tagli di Yandere Chan e poi si vedono sotto i suoi di capelli potete lasciarlo così un mio amico che si era fatto crescere i capelli li aveva lunghi più o meno fino alle spalle e io gli ho fatto i capelli più o meno in questa maniera ma non ci sono foto perché si è coperto la faccia mentre lo cercavo di foto che a fare oh guardate ci sembriamo sorelline abbiamo lo stesso taglio di capelli guardami guardami come so carina ciao ciao senpai sei vivo ti avevo ammazzato ti ho dato fuoco prima senpai torna qua torna qua devi morire senpai devi morire senpai senpai torna qua no non osare non osare andartene via vivo salvo no maledizione cosa vuole averlo ucciso comunque sono contenta di far vedere tutto quello che volevo mostrarvi a questo punto salutate Yandere Chan e diamo tutti insieme il benvenuto a Yankun quindi è carino vedere come si streccia si scorcia grazie a tutti per i stati con noi e alla prossima con Kio delle Tanelove ciao